molto in terra qua eh? buongiorno a tutti siamo all'ombra del fico perché noi due siamo bene fichi lavatute la fichi noi siamo fichi te la rifaccio allora siamo fichis bravo Tony batti cinque bravo a meno a quello ce la facciamo con questa cosa va bene allora questo video è per dirvi che siamo in piena raccolta dei pomodori per fare i fantasticissimi pomodori gialli in acqua e i pomodori rossi in acqua la salsa il pomodoro a salsa sarà un po in ritardo quest'anno purtroppo è tutto inevitabilmente in ritardo e quindi siamo qui a raccogliere stamattina da stamattina alle sei e un quarto ecco ecco per fare un break abbiamo detto ok dobbiamo comunicare alla gente quando ci vediamo ci vedremo quando Tony sabato bravo a che ora alle 3 sabato 3 alle 21 alle 21 dove? saperi e sapori ce l'ha fatta 10 minuti a provare come era saperi e sapori no sapore e saperi va bene un po all'ammerso come si dice alle nostre parti un po al contrario però saremo lì a presentare per la prima volta ufficialmente al comune di a valenzano il progetto sui beni confiscati alla mafia avete letto un articolo su confiscati bene l'altro giorno che indicava un po come la situazione su valenziano si sia sbloccata ne parleremo sabato e parleremo ovviamente tutto quello che vorremmo fare e tutti i progetti che abbiamo in mente giusto Tony? giusto! tu che vuoi fare a valenzano? tante cose ma non far compito tante cose e cose 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 e cose cosa vuoi fare a valenzano? corre rapidi sul prato va bene questo? un allevamento di che cosa? non lo so caprette ah vuoi le caprette come quelle che sono a massire della d'incontro la caprette che fa il cane allora abbiamo già sorpassato i due minuti ma chiudiamo vi salutiamo mi raccomando sabato 3 agosto ci vediamo alla manifestazione comincia alle 7 e mezza 19 e 30 però noi alle 9 8 e mezza 9 siamo a valenzano a sapere sapori quindi mi raccomando vi aspettiamo la piazza non è piccola ma accogliente e dobbiamo riempirla tutta giusto Tony? quindi da domani ingrasseremo per riempirla entrambi saremo con il nostro stand con i prodotti da vendere per subvenzionare il pozzo artesiano a valenzano e poi tutta un'altra serie di attività che vi di cui parleremo proprio sabato salutiamo ciao noi continuiamo a con i pomodori benissimo e i fichi come erano Tony? buonissimi buoni fichi sotto l'albero